Allora guardi qua non è una questione di straniero o non straniero, qua la questione è molto semplice. Ci sono zone di alcune città, e dopo le cito alcuni esempi, dove praticamente tutto è permesso, dove si può spacciare, dove addirittura ci sono violenze sessuali, dove ci sono situazioni di degrado incredibili, dove se gli anziani a cui è stata assegnata una casa popolare vanno a fare la spesa, gli viene occupata la casa da alcuni stranieri e non ci possono più rientrare, ci sono situazioni allucinanti. Quartieri interi dove c'è una totale ghettizzazione, una totale ghettizzazione vuol dire autorizzazioni a IOSA di esercizi commerciali stranieri che non si sa effettivamente cosa facciano, svalutazione patrimoniale di abitazioni dove i residenti sono lì magari da 25 anni per cui gli viene completamente svalutata la propria abitazione patrimoniale vista la situazione di legale. La Lega cosa propone, mi scusi, perché questi problemi li conosciamo. Ah no, li conosciamo, a me sembra che non tutti li conoscano questi problemi, la Lega propone semplicemente una cosa, la Lega dice che se in questo paese ci deve essere legalità, la legalità va fatta rispettare, a noi sembra che dal governo non arrivi nessuna risposta da questo punto di vista, per due principali motivi, uno perché vengono cancellati i presidi delle forze dell'ordine, c'è un elenco da parte del Ministero dell'Interno e il secondo motivo è perché ci sono politiche che favoriscono taluni a discapito di altri. E le faccio un esempio concreto e chiudo. No, no, non chiuda, è invitato apposta. Quando lei ha citato il caso di arrabbiature da parte dei residenti rispetto ai contributi che hanno gli stranieri da parte del governo, ci sono contributi anche da parte dei comuni, perché il signore che avete intervistato prima, che si dimentica di pagare le tasse del suo negozio, si ricorda però all'interno della sua comunità di fare la fila tutte le volte all'assessorato dei servizi sociali del comune per andare a prendere i contributi sociali e ci sono casi innumerevoli. E questa cosa è una cosa iniqua, è una cosa ingiusta ed è una cosa che va assolutamente sistemata per ripristinare la legalità, perché non è possibile che ci siano persone, e queste persone in gran parte sono straniere, alle quali è permesso tutto, alle quali viene dato un contributo economico e ci sono le nostre persone che hanno fatto questo paese, che vivono una situazione di disagio sociale incredibile e che fanno la fame. Questa cosa non è possibile e non può essere più permessa, e questa non è una questione di razzismo, questa è una questione di equità e di giustizia sociale, e noi a questa cosa non ci stiamo più e chiediamo al governo di intervenire, ma di intervenire seriamente per ripristinare due cose in questo paese, la legalità e la democrazia, che deve essere assolutamente fatta di diritti e doveri di tutti, non di taluni e di altri no.